Steph, ma dove mi hai portato? Nella mia nuova base sotterranea super segretta Ma tu non hai una base, Steph! L'ho costruita l'altro giorno, infatti Perché fai queste cose? Perché dovevo provvedere a fare Allora, io ti metto sempre alla prova Contro i mostri in dei villaggetti normali, tranquilli, eccetera, eccetera Ho pensato di fare qualcosa di diverso questa volta Ok Allora, in questo recinto ci sono due creeper molto particolari Sì, una è una torta, lo so Eh, lo vedo Non ti avvicinare perché è una torta pericolosa L'altro non capisco cosa siamo Basta che uno sia una torta, perché è bellissima Ci sono due porte, sinistra e destra Nella porta di sinistra troverai uno di quei due creeper E lo dovrei affrontare In quella di destra troverai l'altro creeper E lo dovrei affrontare E in quella cesta ovviamente l'armatura per difenderti Dovrei affrontare tutti i creeper che io ho messo nelle stanze Senza sapere chi troverai Sarà molto divertente Curioso, Steph, curioso E ragazzi, come va? Io sono Pierini E sono Steph, che se ci chiamo Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft E ci troviamo nella base più inquietante del mondo oggi Bello, bello, bello Non hai ancora saputo tutto Allora, prima di tutto ho preparato diversi giochini per te Come giochini? Ti voglio far vedere una cosa Se tu vieni in una stanza Ok Come puoi vedere non c'è nulla Sì, ovviamente Ma se tu buchi questo bellissimo blocchetto rosso Ti cadranno i creeper addosso E sono tentata dal bucarlo Quando ci sei ancora tu, Steph No, però io sono in game mode Lo sai che ogni volta faccio subire le cose solo a te In una delle due stanze abbiamo il creeper torta Nell'altro il creeper fuoco d'artificio Sì, è un fuoco d'artificio Ok Tu devi riuscire ad indovinare in quale dei due c'è uno E in quale delle altre due stanze c'è l'altro E cosa vinco? Se vinci, vinci un pezzo della spada di diamante Quindi ogni volta che ne indovini uno ti darò un pezzo Quando avrai tutti i pezzi vieni la crafting table e ti crafti la spada di diamante Ok Inoltre, se sopravvivi alle stanze con i vari creeper Potrai ottenere delle melle d'oro Per riuscire a sopravvivere più facilmente nelle altre stanze Va bene, va bene, va bene Ok? Dove è uno e dove è l'altro? Allora, inizio dalla stanza di sinistra Ok E secondo me qua c'è quello torta Ok Allora, aspetta, vai, buca Sono pronto a godermi la scena Sarà l'altro No, ho indovinato Ok Tutto a posto Superata? Sì Ero già pronto a colpire Ma mi diventano tutti torte Già, infatti questi qui Sono pacifici per iniziare bene la giornata I fuochi d'artificio Esatto Che fanno? Mi hanno fatto un po' male Perché un cuoricino l'ho perso Quindi un po' di male me l'hanno fatto Sì, ma sono un cuoricino È stato un bello spettacolo Allora, vieni un attimo fuori Perché Allora, io questa cosa dei consolini La devo far vedere un pochettino meglio Allora, pronta? Sì, prontissima Consolini, guardate cosa fanno Ma perché tutti tranne te? Ok Sì, anche io Avevo il raggio sotto i piedi Avevo il raggio sotto i piedi Perché? Non lo so Non è giusto Fatela volare Fatemela volare Oh, yes Ma penso di morire Ecco qua Ah, scusa Perché mi avevano già tolto metà vita Ma non avevo i cosciotti di pollo Abbassati in modo tale da poter mangiare Quindi Scusa, mi sono fatto prendere la mano Volevo dire quello, Stefano Mi sono fatto prendere la mano Scusami Vabbè, comunque sei nata da Dio Perché sei sopravvissuta da entrambi Ti sei indovinata pure dove stava uno Dove stava l'altro È stata fortuna È stata un'ottima partenza E adesso Consolini Vi faccio già intravedere Cosa mettiamo qua Qui mettiamo Ok, vai Questo Ok Ho sbagliato, ho sbagliato Ecco qua No, Stef Bene Quindi adesso abbiamo il Creeper maiale E il Creeper rosa Dove sta uno e dove sta l'altro Ehm Dai Ah, secondo me qui il Creeper maialino Ok Allora, aspetta che entro anche io Ne ho messo tanti, eh Quindi preparati No E hai sbagliato Cavolo Che fanno Non lo so Ma sti Creeper fanno schifo Però Fede non ti attacca a mezzo Ma che servono Uh Ghost Creeper Ma non me l'avevi detto questo, Stef Scusa Che è un Ghost Creeper? Allora, questa è una di quelle cose che possono capitare nella vita Ah, bene, bene, bene Praticamente Quando tu amazzi qualsiasi Creeper Ok Ti può capitare Devo riprendermi le mie cose Che nasca il Ghost Creeper Che devo dire che è più cattivo del previsto Comunque questi cosi Si gonfiano per esplodere e poi non esplodono Cosa sono dei fake Creeper, insomma? Eh, ma li hai chiamati Spring Creeper Carini, rosa, bellini Eh, l'ho capito Però non servono a tanto E quindi ti dicevo Praticamente sono dei Ghost Creeper Che ti possono capitare a caso E a quanto pare fanno davvero, davvero tanto male Comunque Si, c'è un'esplosione è stata la mia morte Questa volta niente mele e niente pezzo per la spada Eh, lo so, lo so Occhiano a far esplodere quei due Me ne ero dimenticata dell'esistenza di questo Ah Ho capito Cosa hai capito? Non l'hai visto? Eh, non bene Perché non stavo guardandoli Ma allora Te la faccio vedere subito Ok Guarda Guarda che fa Si gonfia Salta Atterra ed esplode Ok Invece nella stanzetta Non è riuscita a farlo No, il maialino Deve uscire lo tu Non voglio vedere l'effetto Ok Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha distrutto un po' le fence Eccetera eccetera Ma con solini almeno abbiamo scoperto a che serve Ma ce n'è già uno qui Si Perché erano un po' baggatti i maiali Ha notato Ok Lì ce ne sono infatti pochissimi che scenderanno Però comunque qualcuno Non mi danno la possibilità di fare nulla Stef Ma proprio zero Sono davvero cattivi questi È stato terribile Vai a riprenderti le tue cose Cioè neanche il tempo di scendere da lì sopra Che sono esplosi Cioè qual è il loro effetto poi nello specifico Beh a sto punto sono maiali esplosivi L'esplosione immediata L'esplosione immediata mi sembra Dici? Eh boh credo di sì Ecco qua Ma no A me sembra un creeper normalissimo Non lo so Non lo so È stato strano Ah che bellini Che bellini Li hai già riconosciuti Fere? Allora uno sembra Ok Cioè sono in decina se dire un ragno Perché ha gli occhi rossi Però i dentini Sembra un pipistrello È un ragno È un ragno È un ragno È un ragno E ma se tu guardi sotto Ha più zampe Eh non mi posso avvicinare Perché aspetta lo guardo da te Non mi posso avvicinare Vedi Perché sono esplosito Ha qualche zampa in più Quindi è uno spider creeper Ah bellino Mentre l'altro ovviamente è un creeper di pietra Di pietra Allora dove uno e dove l'altro Forza 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 Allora qui il ragno Ok Vai così proprio a sentimento Eh ma Fere me li sbagli tutti oggi eh Ma dai No 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 Che succede? Beh sono diventati pietra Sono diventati pietra Guarda Sta È nulla Ma aspetta Vieni fuori Sono buggate le tue stanze Sono totalmente buggate Cioè annullano i poteri dei creeper Vieni qua vieni qua vieni qua Bella vieni 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 Vediamo All'aria aperta Ah Eh sì Forse ho capito Ok io Aspetta Fere Dimmi C'è un problema Che problema? Avevo capito bene Guarda il mio schermo Ah Loro non fanno un'esplosione Che fa danno Fanno un'esplosione Che distrugge tutto Un attimo prima di entrare Gli ho dovuti mettere Direttamente nella stanza Perché dato che si arrampicavano Non riuscivo a metterli Incastrati eccetera eccetera Ok che stanza devo fare? È questa? Sì Non mi ricordo più Mi ha fatto esplodere altre cose Vai Che fanno? Come era prevedibile Mi avvelenano pure Ah ti avvelenano pure? Sì sono avvelenata Ok un ghost In ghost in ghost Chillalo Ti prego non esplodere Chillalo Ok ce l'hai fatta Ok Esco via perché Sono molto avvelenata Steph Molto Mi sono rimasti Non lo so Tre cuoricini Anzi continuo a scendere Non posso mangiare Penso che morirò Probabilmente Steph Due cuori Fere Sono morta Steph Fere Dimmi Guarda il mio schermo Ah non faceva effetto Solo nella stanza Già Ripulisci Steph Compito tuo ripulisci La mia base Base tua pulisci Cioè allora Agli ospiti non si fa mai pulire In casa Steph Arriva quello disgraziato Che mi buca la stone Dove ho messo tutto a bedro Che deve beccare l'unico punto Dove c'è la stone Poi arriva quest'altro Che mi mette ragnatele ovunque Ma porca miseria La mia base segreta è andata Ma come facciamo adesso a continuare? Non ne ho più poi l'idea Cioè io non riesco a togliere Tutte le stranatele Scusa per l'inconveniente Tutto a posto Fere tutto a posto È una bellissima base Come sempre Allora Dove è una e dove è l'altro? Viola scuro qua Viola scuro là Aspetta Steph Non riesco neanche a entrare Rompimele Aspetta Dai rompimele Non riesco a fare Porca miseria Pure qua sono arrivate Io non ci credo Ha ripito tutto Ok Vai Mi hai picchiato Secondo me è rosa chiaro Sì Cavolo Viola chiaro Anche questi avevano qualche effetto particolare Questi un effetto particolare Che andiamo a scoprire adesso Allora Vieni fuori Loro erano I physic creeper Vediamo che fa Meno male che ci sono le ragni a terra Meno male Meno male Meno male Infatti continua a scendere Meno male Perché a livello di danno esplosione Non fa nulla Però poi ti fa volare In una maniera incredibile Forse questi li avevamo anche già provati nel video dei creeper Che avevi affrontato Può essere che non li ricordo Perché mi ricordo che mi divertivo a farti volare in aria Secondo me sono loro Che bei ricordi Eh sì secondo me sono loro Lo metteremo nell'album dei nostri ricordi Ti posso far scendere grazie No non volevo prendere danno Valla di nuovo Le ragnatele vi salveranno sempre Mi spiace per te Ok quindi adesso devi andare dall'altro lato E vedere un pochettino Questi sono un po' passati attraverso Perché sono di quelli un po' strani C'è uno che vola Steph Fai finta di nulla Fere Vai Entra Ok ce n'è uno Killalo Bello Molto divertente Steph Era uno Sì Allora pronta Devi rientrare No non ho nulla L'esplosione ha aperto gli altri Vai dentro corri Ma non ho niente Corri Te l'ho già detto Corri La spada Senza spada è ancora peggio Steph Dammi nemmeno una spada Dai No adesso si sono auto uccisi Fere Perché non è Grazie Grazie Stava nell'angolino Non l'avevo visto Ho fatto apposta Non l'avevo visto Era nell'angolino Non c'è più nulla Ah Perché avevo ripreso la casa Ah Guarda un attimo il mio schermo Tanto non capirei da che lato sono Ok guarda il mio schermo Ma sono dei pannelli solari Vero Sì Quindi è per quello che è un solar creeper Fere Bisognerebbe provarlo anche all'aperto Forse si ricarica Eh esatto Poi vado a controllare Poi vado a controllare Poi vado a controllare Prende energia dal sole Suppongo Sono molto curioso Allora comunque non devo farti capire in che lato ero Quindi aspetta un attimino Non mi guardare No te non vedo niente Ok vai Allora dove è uno e dove è l'altro Un suggerimento Steph che sto sempre perdendo Ma è bello crederti perdere Allora E direi che aveva azzeccato il primo Quindi ho pensato Cavolo è troppo facile Qui il sole Ok Sono le ragnatele Aspetta che ti tolgo tutto Dai Pure dall'altra parte della base Vabbè Ok ce n'è pure uno qua E ne vino Bomba nucleare Non ho fatto tempo neanche a scendere Cioè proprio appena mi hanno visto Aspetta È successo un disastro No Che hanno combinato? La bomba nucleare fa un effetto irradiativo per danno nel tempo Oh E quindi c'erano i solar che prendevano danni poverini Ma poveri Lo so Aspetta che chilo questo Hai fatto male pure a loro Non so se sono ancora vivi Non ho più un piccone quindi faccio a mano Ok Ci sono Ma sono svenuti Mi sa che le radiazioni Ci sono ancora dici Sì Però fanno male Però fanno male Ma Consolini Secondo voi Fanno più male O non cambia nulla? Vediamo se succede qualcosa Beh no Aspetta vengo da te Perché tu Ma così esplode Eh appunto Voglio vedere Se cambia qualcosa Sì È una bella esplosione Beh no Ha fatto le fiamme Molte fiamme Molto grande Molto grande Sì Molte fiamme Molte fiamme Eh ho notato Aspetta che vado a spendermi l'acqua Proprio Tante fiamme Tante fiamme Sì Ragazzi Se vi è scusato Lasciateci un like Se la prima volta che vi è notato il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi per riferirvi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao